Sempre più serio il rapporto d'amore fra Michel Unzichere e l'ex concorrente del grande fratello Giovanni Angiolini. Iniziano le presentazioni in famiglia, sta diventando proprio una cosa seria, l'amore fra Michel Unzichere e Giovanni Angiolini, il chirurgo sardo, ex concorrente di Alessia Marcuzzi al grande fratello. Un rapporto che andrebbe avanti da alcuni mesi, dalla primavera, almeno ufficialmente, anche se secondo le cronache potrebbe essere nato un pizzico prima. Sia quel che sia, è già il momento di un'accelerata con le presentazioni in famiglia. La prima è stata Aurora, la figlia della conduttrice svizzera Ediero Sramazzotti, che insieme al fidanzato Goffredo Cerza hanno conosciuto Angiolini. Sono stati quelli del settimanale nuovo a testimoniare dell'incontro, nel corso di una cena a Milano, ma soprattutto dell'intesa palese fra tutti e quattro. Neanche c'è bisogno di dirlo, ma come è ovvio l'intesa più intima di tutte è quella fra Michel e Giovanni, che hanno proseguito la serata in un albergo di lusso del centro Meneghino. Nessuna parola ufficiale per la neocoppia, ma è palese come il legame sia sempre più intenso e solido, diviso fra la capitale economica e la Sardegna.